Va bene, sono qui con Valentina, che mi darà una mano perché voi potete fare tutte le domande che volete e cercheremo di dare delle risposte, nei limiti del possibile perché quello che andremo a dire non altro che un'esposizione della documentazione scritta e iconografica che però magari tante certezze non le dà magari qualcosa sì magari qualcosa no quello che è sicuro e che fino adesso non esiste un lavoro sistematico che parli o che abbia parlato delle montature di corda per viole da gamba o meglio strumenti all'arco tastati ci sono dei lavori quella sparsi ma è mia intenzione fanno qualcosa di unico raccogliendo tutto quello che oggi conosciamo o perlomeno che io conosco perché la ricerca continua ad andare avanti è un passo dove ogni tanto trovi un tassello e il rischio quando si fa questi lavori è che si trova un dente di un dinosauro e si tenti di ricostruire l'intero corpo alle volte ci sono elementi molto facile ma da un dente capite bene diventa un mino ceronte diventa un cavallo diventa sempre nel vivero magari ma ecco beh intanto vi saluto mi chiamo mimo peruffo sono il titolare dell'azienda aquila corde fondatore di questa ditta faccio il cordaio da ormai 25 anni mi occupo anche di ricerca spendo spendevo almeno molto tempo nei musei nelle case dei privati con un segugia cercare di trovare qualcosa una specie di ricerca del sacro gare che alla fine ma portato con gli anni trovare moltissimo materiali se iconografico che documentare eccetera ma invece di aumentare le certezze ha aumentato il range delle insicurezze ero convinto agli inizi di trovando la documentazione di dare un senso compiuto a tutte queste cose in realtà in molti campi mi sono accorto che questa cosa non è possibile non è possibile perché abbiamo delle incertezze di base ad esempio si coristi standard una autentica giungla dove le informazioni c'è qualcuna che viene contrastata da un'altra poi la confusione dei coristi standard e capirci qualcosa arriva a pensate fino al 1885 perché anche l'ottocento è una giungla di coristi nel 1885 solo lì c'è una commissione europea e tutti gli stati europei del tempo si trovano a vienna e decidono che il corista ufficiale 435 ma nell'ottocento è una giungla non vi dico nel settecento e così ecco la variabilità del corista genera delle delle incertezze poi abbiamo l'interpretazione delle fonti perché usano dei linguaggi una forma linguistica frustrante cioè non è netta e chiara almeno per noi moderni per cui la stessa quello che si legge può essere soggetto a interpretazione rettore al bivio vado sulla strada b o vado sulla strada a compito mio non è dire che sia b o che sia la strada giusta il compito mio è dire che c'è l'interpretazione b l'interpretazione a io diciamo il compito mio oggi non è tanto di dire era così ora cosa perché c'è un ulteriore problema quello che noi troviamo è rappresentativo di una specifica situazione ma non la possiamo estendere faccio un esempio se fa 200 anni qualcuno studia le montature per chitarra e va analizzare quelle diametro la prima corda magari trova il documento di un importante chitarrista ma sono andrea segovia sappiamo che spesso usava come prima corda una seconda che era piuttosto grossa ecco che non possiamo dire poiché abbiamo trovato il documento che riguarda andrea segovia che ha questo diametro quindi l'uso comune di usare una seconda è una cosa che va circoscritta a quell'argomento quindi capite che siamo nell'ambito di una certa complessità ci ho detto piuttosto che niente è meglio aver qualcosa e questo è una buona base di partenza secondo me e essendo lingua italiana prima o poi penso più prima che poi farò un articolo lingua inglese devo riassumo tutto e metto dentro anche parecchia iconografia perché grazie a dio grazie al computer eccetera a me personalmente non serve più andare né nelle pinacoteche va sicuro che non girate parecchie per europa insomma poi con quelle macchine fotografiche sarebbe una volta non è molto semplice per qualcosa di tagliato ma adesso sì e possiamo avere degli ottime degli ottime fonti di informazione no io partirei allora ho detto chi sono io ecco ma già mi conoscete gli argomenti trattati ecco io penso che andrà avanti un'oretta però c'è spazio per le vostre domande no l'argomento specifico riguarda le corde per strumenti ad arco tastati cioè la famiglia delle chiamiamole viole da gamba il punto è quali sono i documenti vi farò l'elenco di quali sono i documenti che riportano dei dati sulle corde vi dico subito che sono pochi e adesso non abbastanza elaborati da esaminare da farvi calcoli eccetera però ci sono e vorrei trattarli una alla volta arriveremo fino credo alla quasi la fine del settecento col par del sud poi punto numero 3 leere delle corde le corde erano soggette a come delle aree geologiche chiamiamole così dei periodi storici in cui all'interno di quel contenitore le corde venivano fatti in una certa maniera dopo qualcuno da qualche parte inventava qualcosa ed ecco che se andavano nuova e la geologica poi si inventava ancora qualcosa e andavanti un'altra e la geologica questo per capirci e i salti di contenitore si realizzavano praticamente sempre nel range del basso quello che serviva principalmente non era tanto realizzare dei cantini più robusti parlo della prima corda quello lo avevano già fatto io chiamo questo limite range l'oper range cioè la prima corda l'ultima di una viola la gamba prima e sesta per esempio alfa e omega hanno queste corde la prima l'ultima delle delle necessità opposte la prima che molto sottile il suo unico scopo è quella di avere una resistenza alla trazione estremamente alta quello che si può fare e anche all'usura ok l'ultimo l'ultima e poi abbiamo le situazioni intermedie invece non ha bisogno di raggiungere la massima resistenza alla trazione non deve trainare un cambio deve vincere il problema dei problemi che l'inarmonicità che la morte nera del suono e su quello tutti combattevano del corda i musicisti quindi questi salti evolutivi che sono bruschi non sono progressivi non c'è una progressione nella tecnologia del cordo un po la volta migliora un po la volta migliora no per ogni epoca c'è una tecnologia stabilità consolidata che va di padre in figlio viene costruita gelosamente ed è sempre quella non ci devono essere cambiamenti perché è necessario avere un'estrema rigorosità del ciclo produttivo perché la variabilità qualitativa già ci pensava il budello che una sostanza naturale per quella altamente standardizzata la materia prima che entrava nelle aziende i cicli produttivi che erano 7 8 c'erano delle figure professionali specifiche fra cui la più importante era quella del capatore cioè il selezionatore del diametro del budello che entrava in azienda e controllare anche la qualità e poi le diciamo i procedimenti chiamiamoli chimici per capirci tecnologici e quindi non cambiava ma il punto dell'evoluzione riguardava appunto le tipologie delle corde basse abbiamo presento delle ere che sono le seguenti tra il 1450 e 1570 questa è un'era in cui si introduce un tipo di corda che voi potete conoscere sotto il nome cat line nome moderno date una corda attuale che in realtà è il nome di una corda antica per registri bassi sia delle viole da gamba sia degli uti e dopo spiegherò meglio in cosa consiste questo tipo di corda poi tra il 1580 circa 70 80 qualcosa capita c'è un terremoto organologico ai lutti vengano aggiunti dei bassi eccetera eccetera e notiamo anche una contrazione delle lunghezze vivanti degli strumenti ad arco e lì c'è qualcosa che fa pensare che ci sia una tappa evolutiva sulle corde basse poi abbiamo l'ultima tappa evolutiva quella che stiamo vivendo oggi che avviene nel mille la prima menzione del 1656 58 in un manoscritto ritrovata manchester si menziona per la prima volta le corde rivestite e costituita da un'anima di budello una corda ricoperta di filo d'argento pochi anni dopo abbiamo l'annuncio ufficiale di john playford nel 1664 a tergo sul retto di del suo libro e abbiamo una nuova emozione di corde basse eccetera eccetera questo lo sapete da lì non c'è stata più alcuna evoluzione per cui noi che adesso abbiamo e vi metta il jazz e tutto quello che volete siamo figli del 1664 lì siamo fermi il punto numero 4 riguarda i trucchi per far suonare uno strumento vedete non basta montare delle corde di budello per farle suonare bisogna anche fare suonare bene e il problema principale che dovevano risolvere l'inarmonicità perché la resistenza alla prima corda aveva già raggiunto il limite massimo consentito mediante dei bagni chimici la scelta della materia prima la cura delle torsioni eccetera il problema era quella di lottare contro l'inarmonicità cioè il fatto che le corde mano a mano che diventano più grosse perdono portanza l'area un po l'esempio che faccio sempre un aeroplano che rallentando di velocità non riesce più a stare a galla perché le ali non lo sostengono rallentare la velocità significa rallentare gli arci cioè abbassarli nel seicento panno di rallentamento delle pulsazioni proprio usano questo termine ecco a un certo punto questa mancanza di portanza cioè la corda diventa sempre più sorda veniva contrastata con vari artifici dopo vedremo come infine vorrei parlare un attimo quali erano le caratteristiche delle corde di budello cioè le vendevano erano rettificate con la rettifica senza centi era una dentro una busta eccetera no le cose non abbastanza complesse volete parlarvi della curva augas a gaussiana dei diametri ecco questo è un po gli argomenti voi fa e poi voleva anche parlarvi delle corde rivestite le corde rivestite quali corde rivestite che tipologia avevano è vero che c'erano le rivestite su anima di seta è vero che siano tre tipologie di corde di cui la terza divisa a sua volta in due sì e vedremo che tipologia avevano in quell'epoca che poi nata anche in tutto l'ottocento 1800 e parleremo anche dell'indice di metallicità perché ed uso oggi prendere diametro esterno della corda rivestita e comunicare al cordaio per esempio beh questa misura non serve a niente vedremo tutto questo allora io direi di cominciare a sto punto no io mi sono già perso più di trenta persone più di trenta persone può andare allora per prima cosa vi faccio l'elenco dei documenti e scusate fogli sparsi i documenti che andiamo analizzare al momento possediamo solo questi almeno possiedo solo questi magari qualcuno che va a cercare di nuovo nelle biblioteche perché il problema principale oggi che nessuno fa più quasi ricerca vabbè c'è internet eccetera però guardate non andare sul posto a cercare è un grosso problema se tu sei un archeologo deve andare sul posto con il piccone il barile scavare perché su internet e poi solo prendere quello che gli altri hanno già scavato la ricerca si fa soffrendo spendendo soldi spendendo tempo e anche essere messi alla porta perché quando ho cominciato mi mettevano alla porta e quindi vi invito di prendere passione fuoco e come dire di mettere benzina nel serbatoio e cominciare a cercare anche di prima mano io ho avuto un maestro da questo punto di vista che è stato il mio ex insegnante di luto ci ho fatto un paio di anni orlando cristoforetti a verona e ho avuto qualche difficoltà perché io ho una mano piccadatta a fare queste cose ma la cosa che mi disse ho fatto tesoro e peruffo cerca le fonti di prima mano secondo avvertimento verifica sempre quello che scrivono gli altri date non fidarti mai bene aver lavorato 25 anni in un laboratorio chimico mi ha aiutato a rafforzare questa cosa allora le fonti storiche che andiamo analizzare sono la prima mersenne è precisamente il basso di viola siamo il libro è stato stampato nel 1636 diciamo gli anni 30 del seicento merced al secondo posto abbiamo james talbot un manoscritto inglese che va stato scritto tra il 1690 1700 e abbiamo un dato estremamente interessante che riguarda il basso di viola poi facciamo un salto abbastanza consistente ci posizioniamo alla terza posizione intorno al 1760 1770 e abbiamo della lander che era un viaggiatore un astronomo francese viaggiatore se ne va in italia fa un libro voi e voyages in italia adesso non so francese usate e riporta delle informazioni molto interessanti del cordaio più grosso più grande che c'era napoli che da angelo che aveva 150 maestranze persone che lavoravano per lui eccetera e poi abbiamo infine 4 il metodo di fucchetti del 1772 per mandolino napoletano a 4 e 6 ordinati precisamente che riporta dei dati e bisogna considerare che fucchetti viene dall'area romana se non napoletana se ricordo bene poi abbiamo dal da sean baptise for quelle nel quale scrive una lettera al principe nel 1763 poi abbiamo gli unici reperti che sono sempre attribuibili al basso di viola di antonio stradivari databili intorno al 1730 e infine abbiamo l'iconografia ecco se non ci sono domande adesso io partirei no al momento sono saluti tutti che salutano commenti sulle biblioteche svuotate per colpa di internet tutto per iniziare a guardate che io ogni tanto metto un granello di pepe cioè cerco di fare politicamente corretto ma anche ogni tanto vi pungo con ago e probabilmente vi provo come a fin di bene ricordate se leggete il libro della giungla a un certo punto mobile si lamenta con l'orso balù perché viene trattato male e lui gli dice è meglio che io ti tratti male imparare qualcosa di come funziona della giungla piuttosto che trovino le tue ossa imbiancare sul sulla riva del fiume vai lunga quindi vedete io faccio la stessa cosa vi stimolo a cercare di prima mano non limitatevi a suonare basta c'è tutto un universo di isole da scoprire con la vostra nave mettete la amare è andata in cerca molto probabilmente non troverete niente ma non lo sappiamo no ecco allora cominciamo merce e adesso dovete portare pazienza perché io devo fare un po il salto in banco con la documentazione ma se ne parla del basso di viola adesso mi giro e come si fa va bene questo è il basso di viola di merce merce ne dice che è lungo 4,5 piedi del re 4 perché la cinque piedi del re ecco ne abbiamo l'unità di misura ed è stato calcolato che un piede del re sono 32,8 cm e quindi il basso di viola del primi anni del seicento in francia aveva una lunghezza di un metro e 48 cm no e da questo disegno ne possiamo fare le proporzioni dall'intera lunghezza sta la lunghezza vibrante come 4,5 piedi sta x e possiamo calcolare la lunghezza vibrante no e salta fuori che ha una lunghezza vibrante di 87 cm ed ecco che mi viene in mente il suggerimento di orlando questo foretti verifica quello che scrivono gli altri non è vero allora chat ma nel 1957 scrive la traduzione in inglese dell'intero libro di merce ottimo lavoro e il piede del re viene stimato 32,8 cm lui si rifà ai lavori di signor robert le noble che ha scritto nel 1947 un libro su merce ne quindi salta fuori l'unità di misura non è 32,8 cm ho scoperto che è meno e 32,48 vedete cosa vuol dire verificare quello che scrivono gli altri a me darlo per oro colato quindi la lunghezza vibrante in base al dato aggiornato del piede del re di 86 cm merce ne ci dà anche le note del basso di viola parte del re quindi voi potete rimanere stupiti che un basso di viola aveva questa lunghezza vivante ma così è che oggi si sa poco ma questa è la lunghezza vivante poi il rapporto tra l'intera lunghezza dello strumento e la lunghezza vibrante 0,59 e il dato è corretto e veritiero perché anche in Talbot e anche in Simpson troviamo il rapporto tra la lunghezza totale dello strumento e la lunghezza vibrante 0,59 e 0,60 quindi il problema rimane il corista abbiamo una domanda in considerazione c'è Vittorio Rielli che dice caro Mimmo il Mersenne è anche la prova che l'anima va direttamente sotto il piede del ponte il codice nel testo e si vede chiaramente nell'immagine sì questo è un argomento diciamo che volevo dire alla fine sì abbiamo lo mostro appena appena ma è una cosa su cui pensare ed è questo documento ecco qua però questo lo lascio a voi musicisti o ai lutai qua dice esattamente di mettere l'anima sotto il piede del ponte dopo ovviamente essendo una fonte storica va un attimo rivista e va presa con le pinze torniamo, grazie Vittorio, torniamo all'argomento stavamo dicendo per poter capire qualcosa delle tensioni in chili perché l'obiettivo nostro è sapere per esempio a quanti chili andava quanti chili erano tese le corde sul basso da gamba di Mersenne e soprattutto che diametro di corda avevano per poter determinare la tensione manca la frequenza standard il corista standard bene, Ellis nel 1880 Alexander John Ellis fa un libro molto interessante una ricerca tanto che viene premiato dalla Camera dei Lordi inglesi gli danno un sacco di guine, soldi e anche una medaglia fa un libro che è un monumento sulla storia dei coristi europei lui calcola dalle canne dell'organo eccetera, che sono corista standard francese, reale, 373,7 Hz vabbè, 374 Hz, molto basso, no? bene, Segermann e Franz Segermann che considero un mio maestro è stato uno dei primi ricercatori e lui anche fisico diciamo fondatore della NRI, che è fabbrica corde nel 1995 fa un'indagine e trova che la frequenza secondo lui è 375 Hz ma capite, fra 374 e 375 siamo lì allora torniamo a noi voi fate domande questo è un argomento devo muovermi un po' con le pinze perché capisco bene che sono cose tecniche e devo devo essere in grado di comunicarvi bene queste cose, no? sapete come ha fatto Mersenne a calcolare allora Mersenne a un certo punto nel suo libro riporta che le canne dell'organo fanno 48 pulsazioni non li chiamo Hz pulsazioni e è una cosa molto interessante secondo me nessuno di oggi ce l'avrebbe fatta ad arrivarci così come per misurare il diametro di una corda lì prendo un cilindro è una corda sottilissima come adesso ovviamente non un cantino di luto fai 10 spire e le accosti bene misuri la larghezza dividi per 10 la misura perfetta media ok questo si può usare anche oggi per misurare le pulsazioni della canna d'organo che era il do 8 piedi lui prende una corda lunga 20 metri adesso da 100-120 piedi quindi si fa i calcoli si vede che siamo lì e ci attacca un peso in fondo sostenuta quindi da una parte all'altra c'è un peso in modo che uno possa contare 1,2,3 ha variato il peso affinché facesse un battito al secondo cioè un S ha fatto una specie di monocordo gigante dopo premendo è andato indietro indietro accorciando finché ha fatto l'unisono unisono con la canna dell'organo quando ha visto questa cosa ha misurato quella lunghezza vibrante sta a X come la lunghezza vibrante lunga sta a 1 Hz e ha trovato 48 vibrazioni che dà esattamente più o meno queste frequenze che ho detto quindi corista 375-73 siamo lì bene come facciamo a determinare la tensione? come facciamo a determinare i diametri? e qui il mersey è uno dei pochissimi anzi è l'unico devo dire che ci dice il numero di budelli di cui è fatta la sesta del basso di Viola la sesta dice il basso di Viola prende 48, 50, 60 budelli e qui adesso che ci facciamo uno pensa ricaviamo i diametri ma non è proprio così semplice che tipo di budello noi stiamo parlando? e che diametro è? perché capite? è come dire in questa tazza ci mettiamo tre cucchiaini di zucchero nel cappuccino sì ma che dimensioni ha la tazza? che dimensioni ha la tubazione, l'intestino? bene da fonti ritrovate da Patrizio Barberi fonti romane sapendo che i francesi importavano una quantità industriale di corde di budello lavorate da Roma abbiamo una lista di 450.000 corde che da Roma sono partite alla volta di Lyon e di Paris tra il 1660 e il 1670 780.000 alla volta della Spagna quindi era un commercio enorme di corde poi sappiamo anche che i francesi prediligevano e consigliavano corde fatte in Italia Forqueret Raul gli oloncelista gli utisti stessi nel Lutbovertout 1660 circa 70 adesso le date qua si consigliano le corde fatte a Roma eccetera quindi molto probabilmente qua siamo parlano del budello italiano e che caratteristiche hanno le corde in budello italiano che sono fatte da budello intero non tagliata a metà per ottenere le strisce il budello veniva tagliata a metà per ottenere le strisce perché il diametro degli intestini e degli agnelli oltre alpe era più grosso mentre da noi con tre budelli messi assieme realizzava quello che era cantino di violino ottenere un diametro variabile tra 0,65 e 0,75 un po' vediamo meglio perché all'estero con tre budelli così ottenevi la seconda del violino non avevano animali di taglia piccola da quelle parti inoltre l'alimentazione favoriva una crescita dell'animale e poi erano molto rinomati per la lana non in Italia insomma tutte queste cose fa sì che noi ipotizziamo che il budello di cui sta parlando Mersendis è quello italiano e qui siamo un bivo è un'ipotesi, non è una certezza però i dati da calcolo che ho fatto cominciano a essere interessanti la vediamo vi faccio vedere intanto la curva gaussiana e vi spiego cos'è eccola qua quando noi realizziamo un cantino di violino tu non ottieni un solo diametro è vero che c'è il capatore che seleziona i budelli fa in modo che quelli che vanno a fare i cantini di violino siano con la tubazione con diametro il più possibile costante non grandi piccoli per non avere un'enorme variazione ma anche nonostante questa strenua e accurata selezione quando metti assieme tre budelli tu hai ottieni un range di diametri rappresentati da questa curva che si chiama gaussiana o a campana dentro cui certamente ci sono i diametri che produci e che non puoi ovviare perché se nel budelli è una sostanza naturale il range ce l'hai e così te lo beccavi perché una volta vendevano le corde in mazzi da 30 e dentro lì trovavi questo range se facciamo l'esempio del cantino di violino fatto con tre budelli interi di agnello noi abbiamo questo range questo l'ho verificato nella nostra produzione visto che utilizziamo il budelli interi di agnello ma viene perfettamente verificato anche dai dati storici però dell'ottocento perché prima non li abbiamo con tre budelli noi abbiamo una variazione che va da 0,64 a 0,65 vedete circa qua poi abbiamo il massimo che è tra 68 e 71 cioè la massima quantità di corde per poi decrescere e andare a una minima quantità con diametro 74 bene se io faccio la stessa cosa con 48 budelli 50 e 60 abbiamo un range minimo e un range massimo di il diametro che si ottene stiamo parlando della sesta corda del basso di viola quindi avremo un diametro minimo di 260 diametro massimo di 300 se passiamo a 50 budelli che lo ha scritto Mercè da 2,65 a 300 e qualcosa e 60 budelli da 2,90 a 3,35 mm di diametro per la sesta se io faccio la media tra gli estremi mi trovo che siamo intorno una sesta corda intorno ai 3,0 mm ok mettendo assieme tutti i dati considerando il corista standard di 375 Hz considerando la lunghezza vibrante di 86 cm dopo aver corretto l'unità di misura considerando la densità del budello che è 1,3 e il diametro medio salta fuori che la sesta corda da calcolo ha un diametro di 10,5 kg circa in realtà il range è fra i 10 e 15 kg per una lunghezza vibrante di 86 cm ho fatto un ragionamento e ho visto che questo range di tensione coincide esattamente con i kg di tensione che noi cordai in genere diamo al cosiddetto violone in sol cioè praticamente la tensione cioè la scelta del diametro viene fatta facendo in modo che la sensazione di rigidità produca delle corde che non siano né troppo molli né troppo dure ma un giusto grado di tensione un attimo ok e tanto e poco qui è una questione di gusto come avete visto già ci troviamo di fronte a una forcella 48 budelli 50 e 60 che diametri producono un range e quel range lì per la lunghezza vibrante che quella è ben calcolabile anche il corista produce un reggio di diametri e a loro volta producono un reggio di tensione e cosa possiamo dire e avendo il diametro della sesta abbiamo calcolato facciamo 3 mm il diametro della prima si divide per 4 di te voi quindi facendo 33 mm diviso 4 dovrebbe salta fuori un diametro di 0 75 ma qua c'è un problema molti di voi sanno che io non condivido l'idea moderna delle guai tensione in kg l'ho dimostrato matematicamente scientificamente ho fatto anche un lavoro che spiega che è un errore e ve lo spiego anche perché è semplice se facciamo che calcoliamo tutti i diametri a 10 kg quei 10 kg vengono spalmati su un cantino sottile quei 10 kg vengono spalmati su una corda grossa che è la sesta nella curva stress strain la corda più sottile si allungherà di più sottoposta a 10 kg quindi perderà molto più diametro e ce ne accorgiamo perché il cantino facciamo molti giri cosa vuol dire fa molti giri? vuol dire che si allunga se si allunga il diametro si riduce il basso invece essendo che gli stessi chili 10 sono spalmati su una superficie molto ampia si allungherà molto meno quindi avremo una riduzione di diametro inferiore quindi il dato di partenza calcolato 10 kg 10 kg cioè le guai tensioni in kg nella pratica montate sullo strumento diventerà una tensione disuguale la prima perdendo una grande percentuale di diametro raggiungerà la nota di re nel caso del basso di viola a meno chili perché il diametro è più piccolo per la legge delle corde Tiller-Mersenne o che se il diametro si assottiglia i chili cadono quindi dei 10 kg 10 kg da calcolo al lato pratico in stato di intonazione questa da 10 kg andrà giù a boh 8,5 mentre la sesta rimane ancora più o meno 10 kg perché vedete che fate io passo subito ma per la fisica la fisica dice che quando due corde sono tese quando due corde sono tese manifestano la stessa sensazione tattile e rigidità quando hanno gli stessi chili sì ma in stato di intonazione avvenuta quando hanno già perso per allungamento non da calcolo iniziale quindi si conclude come dice Mersenne si conclude che per poter avere l'equal fill tattile bisogna avere uguali chili la tensione di partenza deve essere scalare la prima corda deve avere un diametro maggiore per compensare il diametro che va perso in allungamento quindi quando saranno in stato di intonazione si dispongono così a 10 kg 10 kg veri se ho 10 kg 10 kg premendole le sentirò tese uguali questa cosa è vera perché abbiamo delle fonti storiche mi è stato detto mimo che ma questa regola funziona per gli uto non abbiamo nessuna evidenza storica e invece l'abbiamo l'evidenza storica di una sola è Attanasio Kircher 1650 Mosorgia Universalis adesso qua si vede la rovescia no? posso fare così scusate vi faccio vedere l'evidenza storica e poi non voglio adesso parlare di Mozart di Serafino di Kolk eccetera Mersenne scusate Attanasio Kircher vi faccio vedere l'anastatico qui parla del Kelis Major il Kelis Major è questo qua praticamente un violone ok? ha 4 corde lo vedete e ci da 200 intestini la prima la seconda ex 180 la terza 100 andiamo qua che si legge meglio allora la prima corda Kircher ci dice è fatta di 30 budelli la seconda di 50 la terza di 100 180 200 poi ci da le note eccole qua le vedete le note ok avendo il numero di budelli io ho calcolato dei diametri naturalmente esiste il discorso del range no? minimo o massimo io ho fatto la media e questi sono i diametri prendendo una lunghezza ho preso 90 cm ma non è importante perché sono tutte corde sottese alla stessa lunghezza vibrante questo è il profilo di tensione della prima nella seconda la terza la quarta 35 kg per la prima 26 per la seconda 23 per la terza 18 19 16 per la quarta questa è una tensione in kg di partenza di tipo scalare ho fatto la verifica montate sull'estrumento ciascuna perde del suo in percentuali diverse la prima perde molto la seconda un po' meno e via così fino anche le ultime perdono poco questa cosa si dispone secondo un profilo di uguale tensione in kg in stato di intonazione quindi Atanasio Kircher è una prova che il profilo di tensione di filtratile che coincide con la tensione scalare esisteva non esiste nient'altro che dimostri il contrario cioè l'opposto andiamo a noi è un discorso immagino un po' incasinato portate pazienza ciò significa che se la sesta corda di diametro di 3 mm introduce abbiamo detto 10 kg vuol dire che è quella che è la tensione minore ora io ho elaborato una formula che mi permette di calcolare qual è la scalarità e quindi ricavare il diametro della prima che è montata mi dà tutto filtratile uguale e andiamo sull'ordine di un diametro della prima intorno a 0 82 mm però attenzione stiamo parlando di un basso la cui lunghezza vibrante è 86 cm e concludo in questo modo quel tipo di tensione tra i 10 e i 14 kg quella del range secondo me in cui agivano i musicisti del tempo coincide incidente lì come dico l'inglese si dice così coincide esattamente con quello che oggigiorno diamo come chili al cosiddetto violone in sol beh i chili vengono decisi dalla lunghezza vibrante perché all'aumentare la lunghezza vibrante per avere il filtratile che tu consideri giusto deve aumentare i chili e vi faccio un esempio l'arpa l'arpa è uno strumento autocompensato cosa vuol dire che mano a mano che vai giù di frequenza aumenta la lunghezza vibrante altrimenti è sorda è come un aeroplano che rallentando di velocità cioè rallentando gli hertz e mette superficiale e sta ancora a galla se voi prendete queste sono le corde dell'arpa quelle più corte le premette e andate giù verso i bassi sentirete l'astronale effetto che sono tutte dure e uguali significa che hanno gli stessi chili no le corde di lunghezza vibrante 20 cm sono a 2 kg 2,5 kg ma gli ultimi bassi vanno su a 20-30 kg infiltati dello stesso ma i kg sono diversi ecco questo è quello che più o meno accade quando si parla di questi strumenti via via più lunghi bisogna aumentare chili affinché il frittatile rienti in ciò che è gradito al musicista che io assimilo ai cucchiaini di zucchero in un cappuccino e anche lì qual è la tensione giusta as you prefer perché quante cucchiaini di zucchero tu consideri giusto è una questione soggettiva c'è chi vuole 3-4 cucchiaini di zucchero nel cappuccino c'è chi ne vuole uno chi ha ragione tutte e due è un gusto un taste quindi qui è la stessa cosa naturalmente è chiaro che se la tensione è troppo bassa io sfido chiunque ad avere controllo dell'arco sulle corde la prontezza e tutto il resto è questo comunque un problema che rimando a voi io vi sto un attimo dicendo quello che emerge dalla questione di Merced adesso faccio una pausa per mostrarvi che tipologie di corde avevano nel 500 nel 600 nel 700 una breve parentesi prima di andare a parlare di James Table non vorrei tanto parlarvi delle corde più acute ma delle corde del registro grave allora teniamo presente un muro che divide il prima dal dopo che divide il futuro il futuro sono strumenti più corti più agili il futuro è il violoncello il quartetto il futuro è Aydin il futuro è la forma suonata il futuro è i suoni dell'illuminismo il futuro è il betone il futuro è il heavy metal tutto quel diavolo che c'è adesso viene dalle corde rivestite questo è il futuro quel muro lì separa le montature in puro budello e strumenti enormi da quello che poi avendo scoperto il motore a scoppio permette la miniaturizzazione della locomotiva hai la locomotiva bene è lunga 15 metri c'è il vapore ha inventato il motore a scoppio è un motore ad altissima efficienza bene adesso puoi avere una motocicletta con una ripresa fantastica questa è la corda rivestita guardate vi faccio vedere le tipologie che noi ricercatori pensiamo che possano rappresentare i tempi allora quello che vedete qua è una corda di budello per basso realizzata beh vabbè budello intero d'agnello sono dettagli in altissima torsione vedete è molto ritorta perché una corda è tanto più sonora tanto è più ritorta il carico di rottura si abbassa ma noi nelle corde gravi non ci interessa la resistenza alla trazione è talmente grossa ok questa tipologia di corde secondo certi ricercatori soprattutto britannici si fa si pensa che arrivi fino a circa 1570 sostituite da questo tipo di tecnologia eccole le cut line cioè due corde di budello messe assieme e girate all'incontrario del senso della fibra più precisamente questa corda qua che vedete così nodosa sulle prime cut line commerciali che si trovavano ma è una corda amatoriale perché nessun cordaio professionista piglia due corde già fatte e le gira assieme dopo averle bagnate in acqua questa è una cosa che si fa in casa in realtà una struttura tipo la fune marina si fa come in questo caso a budello fresco e si realizza una struttura molto elastica ora come ho detto si pensa che questa corda sia comparsa intorno a 1570 generando dei cambi importanti soprattutto all'aggiunta di bassi agliutto ma il ricercatore Patrizio Barbieri una decina di anni fa ha scoperto un documento molto importante del 1455-60 che testimonia nella sua descrizione delle corde da musica in budello che la struttura a gomena cioè fatta come la fune esisteva già la mia ipotesi è che hanno cominciato adottare questo tipo di corda negli uti portando gli uti da 5 ordini a 6 ordini e permettendo l'aggiunta della sesta corda a questi come viole da arco adesso immagino che questa è molto lacunosa però in pratica la conclusione è che le corde fatte a gomena e lisciate realizzate con budello fresco molto più elastiche esistevano già molto prima del 1570 ok io dopo sapete bene qual è la mia teoria io ipotizzo che dopo aver reso il più elastico possibile normale corda di budello negli strumenti ad arco ci si sia fermati sostanzialmente lì mentre nella famiglia degli strumenti a pizzico io credo che avessero trovato il sistema di mettere delle cariche metalliche dentro il budello aumentando la densità e quindi permettendo alla corda di sionare molto meglio sulla famiglia degli strumenti ad arco possiamo avere dei dubbi però abbiamo queste iconografie che a me fanno molto pensare questa del 1670-80 questo naviola tenor il quadro è 1 a 1 ho misurato da lunghezza vibrante abbiamo 60 cm naviola tenore in solo in là adesso non sto qua a disquisire ma qua vediamo che ci sono dei colori le prime due sono gialle come i legacci ok poi cosa notiamo intanto che sono lucide lisce e poi questo strano colore che si può essere un colore a fine estetici però può anche essere una certa carica minerale e dopo a Carpi ho trovato un altro esempio che beh qua si vede l'intero strumento ecco vedete che questi colori delle corde siano veritiere ce lo dice la cetra la cetra noi sappiamo dalmeno 4-5 fonti storiche a 4 corde che aveva le due bassi in ottone e le due più acute in ferro bene se io vado a vedere l'immagine della cetra eccole lì vedete ottone e ferro si vede chiaramente quindi il pittore è stato molto accurato dopo è chiaro che qua non è che l'effetto prospettiva insomma lì è fallace però ha cercato di essere veritiero nel quello che si vede abbiamo un'altra rappresentazione molto interessante che è se la trovo Carpi Girolamo Martinelli guardate questa siamo in ambito ecclesiastico 1670 credo abbiamo un basso del violon adesso non so in Italia come si chiamasse ma guardate questo strumento adesso faccio l'ingrandimento ecco qua esattamente la stessa sequela di quella di Nuremberg le prime due gialle è tutto un tratto scure erano appesantite caricate io non ho la certezza però diciamo nel caso degli uto ho fatto un lavorone di 40 pagine adesso non sto qua a dirvi eccetera ma si trova online però diciamo poteva anche essere ma quello che sappiamo che è vero che gli strumenti della famiglia del viola gamba non hanno bisogno di questo tipo di corde adesso vi spiego perché domande o no al momento ci sono domande mi sto esaurendo io una cosa scusate ma una cosa abbastanza complessa vedete ho pensato di caramelo in mezz'ora vedete sono quattro cose ce la carriamo in mezz'ora ma non è così allora siamo già a 49 minuti a 49 minuti e dobbiamo ancora fare 700 purtroppo questi sono argomenti tecnici perché voi che suonate spendete una vita nel vostro ambito a perfezionare eccetera quello su cui vi basate lo strumento c'è la scatola acustica non altro che un trasformatore elettrico un adattatore di impedenza fa la corda che vibrando taglia l'aria adatta fa in modo che la corda possa essere messa in comunicazione con l'aria per scuoterla spalmando il suono su un'ampia superficie che è la tavola armonica e quindi questa scatola sonora si chiama strumento e la parola strumento vuol dire al servizio al servizio di e ci sono si sono voluti centinaia di anni di perfezionamento da una parte i cordai da una parte gli utai in modo che uno va un po' più sull'altro in modo da avere la perfezione delle perfezioni dei rendimenti allora vi ho detto che il lavoro costante degli uomini e anche le donne per suonare molto anche loro di quel tempo era arrivare a far suonare una corda perché se voi dovete ricoprire la prima la seconda la terza quarta quinta sesta andare giù di frequenza è chiaro che va aumentato il diametro no perché la legge dei materiali con cui è fatta la corda il diametro aumenta e fin qua non c'è nessuna nessuna sorpresa ma i tecnici chiamiamoli così del mestiere i luttari i cordiali sapevano che c'è un altro problema più importante che all'aumentare del diametro aumenta lina inarmonicità e qua ci si confonde con la parola inarmonicità no inarmonicità vuol dire che la corda diventa sempre più sorda quindi se a parità di lunghezza vibrante no scusate se a parità di chili a parità di materiale parità di herz che mi servono trovo un sistema per ridurre il diametro cioè per toglie budello del budello io devo aspettarmi l'effetto contrario se la corda diventa sempre più tonfa quando è grossa rimarrà sempre più sonora se a parità di herz che voglio ci cavo via a diametro no allora che soluzione abbiamo per tirarvi a diametro dal budello tirarvi a budello dal budello la prima abbassare la tensione la legge delle corde dice che se tu abbassi i chili diametro cala parità di herz e di lunghezza di lante sì ma non puoi andare sotto di tensione oltre a un certo limite perché non non suona più non manovri più l'arco insomma sono cose che sapete benissimo quindi la tensione quella la devi tenere a un livello che ti permetta di suonare bene veloce pulito e netto quindi ho netto nel merito perché è il vostro mestiere che altre soluzioni abbiamo al di là del fatto di fare la corda più elastica possibile questa è una cosa che riguarda i cordali a corda adatta per ridurre il diametro abbiamo la possibilità di due possibilità la prima è quella di aumentare la densità e il suo peso specifico con qualche artificio lo vediamo dopo è quella di aumentare la lunghezza vibrante il più possibile ma non si può aumentare la lunghezza vibrante il più possibile perché la legge delle corde dice infatti che il diametro cala se tu aumenti la lunghezza vibrante quindi loro assolutavano la massima lunghezza vibrante che si vede nella regola del giuto di accordare la prima il più acuto consentito quando vado a speccarmi a dirvi che la corda segnala quando si sta per rompere ma loro progettavano per calcolo la scelta delle lunghezza vibrante per la nota imposta del musicista tenendo conto anche del corista di riferimento del committente perché se io da Palazzo Barberini vado da Iberle a Venezia dove hanno il corista a mezzo punto il ton del cornetto 4,67 4,65 e gli dico fammi un basso di viola quello mi chiede subito sì ma dove lo porti e lo porto a Roma e allora fammi il ton del cornetto tuo in modo da fare le proporzioni fatto sta che quando il basso di viola la corda nel ton del re lui lavorava vicino alla rottura sfruttava la massima lunghezza vibrante e quella parità di chili a parità di hertz che servono per la sesta corda e il diametro andava giù al massimo possibile questa era la regola e lo sappiamo perché John Play e Ford e altri dicono scrivono quando deve accordare il basso di viola la corda va tirata su ha il più acuto permesso finché quasi arriva la rottura voi direte ma spaccavano le corde no perché la corda mano a mano che giri il pirolo e ti avvicini e va su tu tanti giri senti pim 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 quando arrivi vicino alla rottura la corda non esce più allungarsi e Danielo Bartoli nel 1690 e qualcosa dice la corda si spezza laddove non si allunga più è come prendere una rete una recinzione fatta la losanghe che tu la tiri le tessa lunghe a quel punto le losanghe da così diventano così non allunghi più e lì si spacca quindi la corda ti risuona a quel punto non si allunga più senti e lì sei a una certa distanza la rottura lo strumento di Mersenne effettivamente facendo un calcolo avendo quella lunghezza vibrante avendo il corista la nota ho visto che lavora circa tre semitoni dall'exitus è perfettamente in linea con quello che si faceva negli uti questo calcolo si chiama prodotto fl la moltiplicazione fra gli hertz della prima corda e la lunghezza vibrante ed è un dato chiamato chiamiamolo ingegneristico è ok qua mi fermo perché se no entriamo in sottinsieme sempre più complessi ma diciamo vi basti sapere che i calcoli finali fatti sul basso di volo di Mersenne sono perfetti quello che ho detto fino adesso entro quei range che ho dato di incertezza del diametro funziona ci danno lo spinto di fare un vero e proprio ciclo di incontri dedicato alla viola le serie di argomenti che sta trattando in quanto fondamentali sono talmente tali e tanti che richiederebbero certamente una vera e propria serie di incontri una serie di incontri io le famigliazioni di caffè io devo fare no la famigliazioni di caffè qua si 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 questa cosa di dopo vedo di disciplinare in modo ma queste cose capite fare così su una letta facebook dove mi vedo a me e non vedo in fare se uno che parla torriamo a noi vi ho detto per ridurre il diametro abbiamo la strada di ridurre la tensione ma c'è un limite è che l'arcata e lì ci si ferma quindi non è un parametro tanto utilizzabile poi per migliorare il suono abbiamo detto possono ritorcere più gli altri sistemi ma lì ci si ferma lo scopo è comunque ridurre il diametro bisogna lavorare in due direzioni per aumentare l'efficienza acustica delle cordene a basso e ridurre il diametro assieme fanno la forza c'è un'altra strada che è l'ultima che è rimasta è quella di aumentare il peso specifico se io leghi i documenti del tempo dove portano i parametri che determinano le regole delle corde lunghezza vibrante frequenza diametro tensione danielo bartoli che era anche vincenzo galilei ma non ricordo bene veramente ci sarebbe un altro parametro che forse è il più importante per rallentare gli hertz non è forse vero che la gravità della corda ovvero il suo peso che determina eccetera 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 ok bene e il cambiamento di densità lo chiamo la terza dimensione perché si parte da un materiale naturale che è la prima dimensione gli dai la torsione rispettando il suo peso specifico spontaneo alta torsione tipo fune eccetera ma non incidi la terza dimensione il cambiamento del suo peso specifico ovvero l'incremento aumentare il peso specifico una corda che è di 3 mm signale si significa abbatterla a 2 mm come questa e acquisire questa elasticità e questa potenza di fuoco vedete quello che faccio adesso è una prova empirica dove io sento uno scuotimento potentissimo qui questa è la tavola armonica perché io qui ho concentrato due parametri che sono sinergici nella lotta contro la morte nera con la spada e l'elmo nero l'elasticità si unisce alla densità per combattere l'inarmini in armonicità questo io credo che sia il vertice mai raggiunto dalla corderia e dalla e dalla musica tra il 1580 e il 1680 ovviamente non abbiamo le ricette tutto il resto ma guardate non abbiamo neanche le ricette di fabbricare questo tipo di corda perché i dettatori possono dire Mimmo ma non c'è una ricetta di appesantire il budello sia amico e ragione ma neanche di fare corde così abbiamo delle indicazioni abbiamo delle vaghe tracce una sola che riguarda le catapulte un libro di Ramelli nel 1585 comincia a svegliarsi la testa un po' da volta riporta lo scorpione lo chiamavano così una catapulta e si vede delle grosse corde intrecciate qui si sono fatte come le grosse corde degli grossi bassi dei violoni però il Ramelli dà un'indicazione specifica di uno strumento lo strumento più grosso che esisteva e quelle corde lì non posso pensare che parla dell'arancia allora parla della mela della bicocca dell'anguria no sta parlando di quella cosa lì ma documentazione specifica come si facevano le corde guardate da parte di cordai nada niente perché chi parlava si faceva un po' di anni di galera fusta taglio della mano e in tali unicasi per tre generazioni era buttato fuori dalla corporazione di cordai e anche la famiglia un po' più fa corde per tre generazioni qui c'è un segreto pazzesco da questo punto di vista qua ci chiedono come si calcola il calibro di una corda man mano che si riduce il diapason come nel caso dell'arpa ne parliamo magari la prossima puntata questa è la domanda delle domande non si può tu immagina che uno dall'Australia mi chiede a me che sono in Italia secondo te quante cucchiaini di zucchero devo mettere nel mio cappuccino e saccio detta così è brutta vero perché allora tu mi ordini la corda la montatura le corde d'arpe divanti a cordare 6 c'è la maniera di uscirne bisogna fare tessere l'abito un po' una volta ma dobbiamo parlare un'altra volta forse potrebbe essere un argomento interessante perché le arpe e dello stesso problema le abbiamo nelle spinette che sono altre occhiate messe orizzontali come dice Marseille le spinette sono arpe messe così con i tasti nelle arpe abbiamo la parte superiore collo non so come la chiamate modiglione che è soggettiva cambia c'è chi la vita ci sono un sacco di profili qui non può esserci un modello di calcolo anche la parte dell'inclinazione della cassa è un argomento complesso ma risolvibile e si può fare qualcosa ne parliamo un'altra volta adesso abbiamo già un casino con le cordatane viola da gamba però prometto ne parliamo questo è Mersenne quindi adesso andiamo a Talbot un manoscritto Talbot attinge a piene mani da Simpson Talbot ci dà le misure del del basso di viola del consort quindi quello grosso poi della viola tenore e dell'alto ci dà le accordature quindi il basso di viola in re il treble e in re all'ottava sopra e il tenore è in sol questo è quello che da Talbot credo che però abbia sbagliato abbia messo l'arma il ricercatore come se ha capito che era un errore tutta in proporzione e ci dà la lunghezza vibrante il tenore e la stessa lunghezza vibrante del luto tenore che in realtà si chiama diutomezzano così almeno banchiere lo chiama chiamano tenore per capirci in sol quindi siamo intorno ai 60 61 cm il basso di viola 32 incise che tradotti sono 81 cm di lunghezza vibrante non dà la misura del treble ma è implicita nelle proporzioni che dà Thomas Mace e la metà esatta quindi metà di 81 sarà 40 cm cosa c'è di interessante qua due cose il primo che abbiamo una stima del corista inglese di quel periodo che stiamo intorno ai 390 a 400 e vi prego di non mettermi in crisi sulla storia dei coristi perché guardate che è una battaglia tra i ricercatori ma qua grazie a Dio abbiamo abbiamo un aiutino io il mio personale facciamo finta che sia 390 avendo la lunghezza vibrante di 81 avendo la notte in re io posso calcolare il prodotto FL e vedere se è fuori di testa o sotto di testa cioè un prodotto FL di un basso di viola deve avere un valore fra i 190 e i 210 lì se verifico questo vuol dire che l'ipotese del corista è giusta cioè è una specie di prova del nome alla rovescia quindi invece che tirare i dadi però diciamo siamo intorno ai 390 io ho verificato che con 81 cm considerando il corista 390 inglese e considerando la notte a re che adesso guardate non mi ricordo gli hertz viene fuori un prodotto FL di 200 e qualcosa perfetto è la stessa cosa che succede con Merset quindi 375 il corista standard di Merset sta a 86 cm come 390 sta a 81 perfetto quindi io ho fatto questa piccola verifica eccetera ma il dato più importante che dà Talbot è che fondamentale è che dà dei rapporti di questo tipo prima della seconda del violino uguale alla prima della viola d'abbraccio e fin qua nessuna sorpresa perché anche dopo il Galeazzi Francesco Galeazzi torinese nel 1791 fa capire che la viola d'abbraccio prendeva le corde del violino tirando via il micantino e aggiungendo il do e montava le stesse corde in tutto l'ottocento abbiamo queste informazioni fino anche al 1920 praticamente la viola prendeva le corde del violino le montava dritte come stava ma la cosa più importante è che scritto che la seconda del violino o prima della viola è uguale alla prima del bass viol la prima del bass viol quindi tutti di corsa a caccia qual è il diametro della seconda del violino di quel tempo lì allora adesso devo trovare i fogli ok dei dati dei cordai di roma eccetera sappiamo che la prima del violino si faceva con tre budelli interi daniello aggiungendo fra parentesi che non c'era una produzione importante di corde di buddali in inghilterra per mille motivi e sapendo che da roma prima ancora che da napoli a napoli nel settecento ma nel seicento la corporazione di corde di roma era la più potente d'europa esportavano vagonate di corde anche dalla toscana abbiamo i dazzi doganali dei battelli che andavano a londra eccetera e tre budelli abbiamo una gaussiana un diametro che va da tre scusate da circa 0,65 0,75 e usando il criterio dell'equal fill di tensione e non la tensione scalare che si è fermata dopo cioè una leggera scalatura almeno delle prime due corde perché poi si appiattisce un attimo con la terza la quarta non è proprio così quella leggera scalatura salta fuori che in range di diametri proporzionali alla prima del violino 65 e 85 e scusate 65 75 e diavolo andiamo a 82 100 quindi la seconda del violino c'è la prima del basso di viola oscilla fra 0,82 e un millimetro questi sono calcoli che io non posso dire chi sono io per dire che non sono veri vi do il range di quello che accade e quell'interno lì ci si sta però attenzione stiamo parlando di un corista 390 se vogliamo fare un rapporto con quello che si fa oggi a 415 i diametri vanno abbassati in mezzo tono e io naturalmente sono furbo come te di coppe perché non l'ho fatto ma la 82 va intorno a un 77 e la 100 va intorno a un 90 quindi 77 90 dentro quel range lì c'era il diametri di corda che tra volte indica attenzione talbot lo indica ok diciamo quello che io trovo ragionevole pensare che la prima del basso di viola era la seconda della viola d'abbraccio ci ho detto e abbiamo quel range lì e lì capite che è una questione di due cuccherini di zucchero 3 4 6 lì ognuno poi si aggiustava dipendeva da molte altre situazioni dal tipo di strumento questo lo sapete bene anche voi però è molto interessante perché per la prima volta abbiamo dato consistente questo rapporto e il violino del violino abbiamo delle buone informazioni per la verità molto di più a partire dal 1730 40 poi con l'affermarsi dell'illuminismo lì andiamo a nonce però tenete presente una cosa che mi sono dimenticato di dirvi torniamo a merced 1636 merced dice che il violino monta corde più grosse della viola ha un suono ruvido adatto alle danze e dice la prima del violino è grande più o meno come la quarta del liuto che diametra una quarta del liuto semplice si ipotizza che corrisponda a un diametro fra 71 e 78 in quel range lì ecco questo già per dirvi che non è che un filo una zanzara uno 0,50 quindi il violino aveva calibri consistenti in proporzione quindi questa è la mette una domanda in inglese in inglese si Mimo about the bass string is there a relation between the diameter of the core strings l'anima and the diameter of the twisted strings si adesso andando a Talbot abbiamo la terza informazione le corde rivestite la prima menzione vi ho detto è un manoscritto atlip paper project del 1656 58 dove la primissima menzione delle corde rivestite ma questo è un manoscritto quindi io posso scrivere che ho la reazione nucleare ma se non lo pubblico nessuno lo sa rimane nel cassetto in realtà John Playford che dice che c'è questo nuovo tipo di corda bassa che sono meglio delle altre e che il suo amico che è un negozio in centralongra le fa perché le fa perché le fanno gli utali dice Playford che un filo di argento appo un'anima che potrebbe essere di budello o di seta attenzione il fatto che descriva le anime di seta bisogna vedere poi se le hanno usate no non le hanno mai usate perché non funzionano qua dove entrare in argomenti di tecnologia cordaia e anche altre corde parlare di onde stazionari eccetera ma non è il caso insomma se io prendo del fioco di seta e faccio come i bassi della chitarra passi l'arco non suona niente ok funziona bene invece può funzionare bene su altri strumenti quelli a pizzico ma è un altro argomento quindi la corda era fatta da un'anima di budello rivestita di filo rotondo di argento poteva essere il cosiddetto falso argento e rame che è stato inargentato non con la galvanica perché hanno cominciato a usarla dopo il 1855 ma con la placatura come si fa placatura di oro argento sulle armature sugli oggetti avevano delle tecniche che neanche si può immaginare non serviva per la galvanica oppure qualcuno sperimentava l'ottone qualcuno potrà dire ma l'ottone suona meglio no guardate non entriamo nella logica alchimistica che poiché è giallo allora assomiglia a loro no no scusate è molto più cinica la questione il tipo di metallo usato è importante che abbia un alto peso specifico perché determina il diametro del filo se uso l'argento ho un altissimo peso specifico se uso l'ottone è più grosso e quindi le spire sono più grosse diciamo l'ottone costa meno è più a buon mercato ma il tipo di arcata tu senti la cosa un po' più rumorosa non è perché ottone ok no quello che conta della ricopertura metallica è solo il suo peso specifico tutto il resto è fantasia chiunque ve lo dica ve lo sottoscrivo e parliamo delle corde rivestite la corda rivestita compare nel 1660-70 ma è esplode nel 1700 abbiamo qualcosa verso la fine del 1600 abbiamo i famosi quadri e viene descritta per esempio dove far vedere un po' di iconografia ma fra poco giù e faccio l'iconografia diciamo facciamo un salto in avanti che tipologie di corde rivestite avevano al tempo tre erano tutte con budello e filo rotondo sopra preferenzialmente argento poi nel 1700 usano il falso argento cioè ramina argentato e qualche volta anche l'ottone per questioni economiche perché dico tre tipologie avevano la corda rivestita normale l'anima e con le spire accostate quindi le spire di metallo accostate che quelle che vedete no filatura semplice poi in qualche raro caso avevano la filatura doppia cioè una prima passata e dopo sopra di nuovo queste corde qua vengono condannate da Jean-Baptiste Forqueray sul basso di viola poi il fatto che abbia detto è mai doppia rivestita d'argento significa che qualche utilizzo l'aveva infatti lo aveva su certi strumenti e io le ho viste personalmente andando appunto nei musei per esempio nel contrabbasso a cinque corde del tardo ottocento il quinta corda che è un sì bemolle un sì quel talento utilizzano non filo grosso d'argento ma due fili sottili uno sopra l'alto questa è la doppia filata ma un utilizzo raro qual è la terza corda? lo sapete già è la famosa corda a demi o demifile il nome deriva dal fatto dalla larghezza delle spire le Coq Castiglione 1729 parlando della chitarra a cinque ordini spiega come fabbricarsene in casa e dice le chiamiamo a demi perché la spaziatura fa spira e spira questa è dello stesso diametro del filo questo tipo di corde però funziona bene solo sugli strumenti a pizzico perché il cline si incastra dentro come la ruota della bicicletta nella rotaia del tram non esci più le corde adatte a demi che quindi la parola demi è solo rappresentativa ma spiralizzate sono adatte alle strumenti ad arco abbiamo anche corde di questo tipo ancora oggi ve le faccio vedere adesso vi farò vedere un po' di iconografia dai perché sennò andiamo nelle filate e faccio vedere un po' di iconografia Gabbiani 1690 circa vediamo la quarta del violino questa montatura rimane così fino a circa il 1910 3 di budello quarta di violino si vede bene è che bianca poi cosa abbiamo vabbè sempre gabbiani firenze qua neanche a dirlo è un'esplosione di bianco la quarta corda il violoncello questi porto violoncelli fino a circa il 1760 la terza non era mai rivestita avevano solo la quarta in budello nudo che poi sempre molto veloce questo un bas del violon puget 1685 il musicista della corte del re francese e qua vediamo la quinta e la quarta non fatemi domande se sul basso del violon probabilmente avrà il cantino il sol a corista 390 per cui ci sta che sia lungo così ma questo solo mostrando a basso attorno porta pena poi cos'altro possiamo vedere ma questo questo violinista qui si vede male ma vedete un po' grigiasta no ok poi facciamo un salto in avanti gaitano pugnani ma forse siamo troppi in avanti ma si lasciamo per le pugnani e invece comincia ecco qua 1730 questo violoncellista italiano e anche qui si vede sinta avere in realtà questa è una foto che ho fatta viene ma con una macchinetta fotografica si intravede la quarta bianca poi abbiamo delle descrizioni un giuttaio a roma ordina delle corde per un violone di cui ogni budella una in ricoperta d'argento siamo nel 1677 il taglio si chiama plattner poi vediamo parliamo delle corde a demi queste le coq 1729 per la chitarra vediamo se lo trovo filata di ottone e qui dice beh insomma da qualche parte le corde ecco qua qui diceva filata con lo spazio lo stesso diametro del filo un poco di più ed è per questo che si chiamano a demi charge a demi adesso io non conosco il francese poi abbiamo chiede a scrivere queste cose sappiamo che giambattista forche lei ma vediamo intanto un po di iconografia queste corde a demi le possiamo vedere nel famoso ritratto del 1744 32 giammati sforche lei vediamo la quarta e la quinta poi qua questo un'arpa metà del settecento qui è talmente esplosiva la cosa vediamo le corde spiralizzate vedete le chiama demi ma realtà sono molto spiralizzate quale vediamo sul violino la borda e brossard bossa del 1708 la bordo 1782 in france era uso usare una corda a demi poi è diventata budello la vedete il pittore fa vedere i punti ci tenevano evidentemente tornando avanti molto velocemente questo un documento del 1765 francese le corde vengono fatte corde filet e e demi filet quindi praticamente descrivere tipologie ricorda del settecento e qua questo è un liuto che sono andata a misurare ste corde in svezia nel 2019 credo che siano originali qua vediamo le corde a filatura spaziata e quale vediamo bene eccole lì questa soccorre molto probabilmente originali stiamo per fare la datazione tipo radiocarbonio 14 ma con un'altra tecnica perché radio 14 non va bene poi abbiamo l'arpa anche qua una tarpa e qui si capisce cosa voleva rappresentare il pittore siamo ovviamente in francia si vede la capellatura immagino poi concludiamo questo giro qua anzi penultimo questo strumento moderno questo violino norvegese la terza corda guardate il settecento ai giorni nostri ok ok infine stradivari questo interessante guardate questa corda qua e leggete il testo queste sono le mostre delle tre corde grosse quelle che fan vedere che di budello raffilata vidalba traduzione questi sono gli esempi delle tre corde grosse quelle che attraverso il filo fa vedere che si tratta di budello raffilata ad imitazione della pianta della vita alba la pianta della vita alba è questa qua non il tronco questa aliana qua vedete che spiralizzata quindi ecco questo è il discorso torniamo a noi e parliamo delle corde rivestite allora vediamo a ecco le faccio vedere intanto le demi file ho fatto degli esempi da dopo vi dico da caratteristiche allora qua non so se si veda questa demi file qua e non si vede niente a ecco a una spaziatura che non si nota appare diametro del filo ecco la senta vede questa no questa data alle strumenti ad arco ed è simile a quello che vediamo nei quadri no adesso la domanda insomma dopo questo lungo percorso andiamo alla domanda funziona così una corda rivestita è una cosa composita da un'anima e un metallo sopra quando voi mi date il diametro esterno non mi state dando nulla perché esiste una grandissima combinazione fra il diametro dell'anima e del metallo che misurato con micrometro mi dà lo stesso diametro faccio un esempio io posso usare un'anima da 2 mm e un filo da 0 10 misuro e sarà 2,2 ma io posso usare un'anima da un millimetro un filo da 0 20 mi darà sempre lo stesso diametro ma le proprietà meccaniche e acustiche sono completamente differenti perché il problema principale qui è l'indice di metallicità che ecco perché il dia dare solo diametro di una filata come si vede negli strumenti modelli è un esercizio di inutilità faccio un esempio la quarta della viola d'abbraccio e la terza del violoncello rivestite e hanno lo stesso budello equivalente cioè c'è un budello che è identico per 32 dove montato il suo strumento manifesta gli stessi chili ma sono completamente diverse perché l'indice di metallicità della quarta della viola d'abbraccio è molto più elevato cioè c'è molto più metallo rispetto all'anima mentre sul violoncello è soffocato perché altrimenti collassa la corda suona troppo metallica quindi il problema è stabilire non solo il budello equivalente cioè che tensione deve dare ma anche l'indice di metallicità ossia la percentuale di metallo rispetto all'anima di il vero segreto e lì e l'arte ora se io prendo una corda e li metto il metallo più c'è metallo rispetto all'anima più il suono diventa metallico viceversa più diminuisco il metallo e aumento l'anima a parità di chili più sono diventa tonfo chiuso budelloso un termine un po così esiste quindi un range di questa cosa immaginate sempre la solita curva gaussiana dove ho il range il plateau superiore dove c'è un valore minimo di metallo massimo di metallo entro in cui ci sta il bello estetico io ho trovato la mia formula del bello cioè per quella data posizione per esempio la sesta del basso di viola qual è l'indice di metallità giusto dove sto lì dove posso giocare metto più metallo diventa un po più brillante trovo un po di metallo aumentando l'anima e diventa più rotondo però per quella posizione lì li devo stare e l'esempio io non ce l'è meglio perché per quinte sulla quarta io l'indice di metallicità sta entro un range perché sennò magari non suoni non riesce a muovere la corda la terza non segue le stesse criteri di indice di metallicità perché una corda molto più efficace più efficiente e quindi l'indice di metallicità si sposta a livelli più ridotti però sempre entro range quindi qua mi collego adesso ecco quindi spero da aver risposto ora la domanda è che proporzioni avevano anticamente fra l'anima e il metallo perché oggi noi quello che facciamo nella viola da gamba e anche del violoncello ma soprattutto una viola da gamba e inventarci un qualcosa dove non c'è nessun riscontro storico non c'è nessun riscontro storico su che indice metallicità che proporzioni tenevano possiamo avere delle ipotesi sulle tensioni di lavoro vi ho detto il numero di budelli la seconda della viola è uguale alla prima del basso di viola a merced numero di botti tutto quello che volete ma se andiamo nel campo delle corde rivestite siamo nel nulla chiunque dica il contrario deve presentare le fonti storiche per quel che so io non esistono tranne antonio salivari allora forse quelle corde li faccio vedere di nuovo naturalmente quando ti serve l'esempio eccolo qua va beh andiamo fare spero di non annoiarvi eccole qua guardate io come ho detto prima prendo le informazioni di prima mano e non mi fido di nessuno ecco guardate questa è la mostra del tre corde guardatele bene l'anima di budello guardate come molto ritorta essendo che siamo in italia questa è la budelli interno daniello sempre che si dimostri che siano autentiche ma si può fare un'analisi col simile radiocarbonio 14 ok cosa possiamo dire ho fatto bene a non fidarmi perché nel 1972 sacconi danni di utaio che ha contribuito alla nascita rinascita il cremona e la scuola di loteria parlando dell'ascito di questi reperti attrezzature eccetera sì scusa sì ok gli essiccatori ne ne parliamo si riporta le misure dell'anima e del filo di metallo ok poi una ricercatrice credo la patricia frisoli fa una pubblicazione sul che penso site sono ricordo degli anni 80 dove queste corde sia da sacconi che da lei vengono considerate corde per violoncello e quella spazzatura lì veniva pensata come la parte finale di una corda avete presente i bassi della chitarra se vuole guardate c'è un tratto che affidatura aperta si fa così per andarmi a nodare si pensa fosse la parte terminale no anch'io la pensavo così però mi son detto non mi fido di quello che ha scritto sacconi devo andare la col mio micrometro nuovo perché non mi fido e sentivo la voce di orlando questo foretti peruffo prendi i dati di prima mano peruffo verifica di persona peruffo non fidarti di nessuno giusto vado là e non mi accettano al museo perché non avevo le referenze lo so tornato la con 5 kg di carta come se lì vabbè siamo andati a aprire la vetrina misuro le corde e scopro che i dati non corrispondono a quel che ha scritto nel libro di sacconi nel libro del sacconi c'è scritto anima 1 50 io leggo un e 30 nel libro di sacconi c'è scritto filo 0 15 io leggo 0 22 ok poi ho pensato bo della filatura aperta ho pensato che era diciamo la parte terminale e stava ancora sulla fissa corde di violoncello ma nel 1995 l'anno che ho fatto la misura io poi contatto il france e garma questo ricercatore importante gli passi dati e lui diceva secondo me qua non può senza corda violoncello tu dici che non sono dei miei file ma è la parte terminale effettivamente potrebbe essere vero perché le spie non sono sono abbastanza irregolari poteva da lungo una cosa falsa però potrebbe essere corde più in basso di viola qualche settimana fa realizzo faccio dei conti dico caspita sta vedere che sono le corde per il basso di viola la francese e ho pensato al ritratto di forchere perché forchere nello scritto dice nel 1763 la corda del 1000 a quarta affilatura piena alla quinta la sesta alla settia ma nel suo ritratto di prima del 1740 la quarta e budello pieno scusate la quarta e demitile anche la quinta demitile la sesta e la settima affilatura piena poi ho fatto un'indagine sull'iconografia che adesso vi faccio vedere che straordinaria e per cui io ipotizzo che queste potesse essere delle corde per il basso di viola ho realizzato cinque giorni fa una coppia esatta di queste quali ho mandate a salisburg a farle provare a luke vittorio ghelmi che ne stanno testando e c'è un'anomalia della tensione perché quella demi è troppo molla c'è qualcosa che non funziona sto ipotizzando che hanno invertito le ane però se si fene buona questa cosa questi potrebbero essere dei partiti molti interessanti qual è l'anomalia però che a me colpisce e che viene utilizzato lo stesso diametro di filo d'argento per realizzare tutte e tre e che diavolo non è come oggi dove la quinta è un filo da 0 15 d'argento la sesta 0 22 la settima 0 30 cioè aumenta il diametro e anche l'anima per andare incontro al fatto che suoni qui invece mi tengono il metallo fermo mi aumento in mania enorme l'anima perché l'anima della settima e 1 e 75 un'enormità però abbiamo un dato jean baptiste for che lei dice questa cosa qua dice di con lo stesso filo di far la quarta la quinta la sesta la settima è questo anche un problema enorme perché allora abbiamo questi reperti e for che lei che dicono usare lo stesso metallo e qua e dobbiamo domandarci dove stiamo andando for che lei ha detto una stupidaggine la for che lei però è e quindi io il problema lo butto su di voi possiamo fare una copia esatta quello che io ho fatto utilizzare per capito io come si doveva risolvere la cosa bisogna delle anime estremamente elastiche quindi ho usato delle corde in budello daniele intero in altissima torsione adesso si sta provando abbiamo altri dati simili che ci dicono che il filo di metallo da così sottile quindi l'indice di metallicità era più basso delle corde che facciamo oggi si abbiamo raoul 1770 metodo per violoncello parigi dove dice testualmente si prende la prima la seconda la prima diventa la terza la ricopi la seconda la ricopi diventa la quarta ma la seconda del violoncello è di diametro 1 70 1 80 e mentre oggi si utilizza un'anima 1 30 1 e 40 dove c'è molto argento io ho fatto una coppia di quelle corde lì e si fa fatica a muovere con l'arco ma o quelli sono dati stritti e quindi ci si pongono delle domande poi minimo hai trovato dei riscontri di musei essi perché in diversi musei ho trovato accorde molto vecchie per violoncello non dico del settecento dico probabilmente dell'ottocento dove l'anima era grossa il filo era sottile ho trovato delle quarte di violoncello del filo di recopertura era quello che oggi noi utilizziamo per le terze e c'è qualcosa che ci sfugge saccio non lo so però intanto vi dico quello che nella documentazione non vedo una soluzione vi butto lì un problema adesso guardiamo velocemente la iconografia e dopo concludiamo parlando del par su allora questa va per le lunghe io cavo calcolato mezz'ora ma probabilmente ho calcolato male allora beh vado a ordine sparso questo è del 1600 8 95 e cosa vediamo un basso di viola con una sesta corda rivestita esattamente come dice talbot vedete che bianca e le altre su maroncine quindi qui un basso a sei corde con la sesta rivestita andiamo velocemente a vedere altri esempi françois desportes 1730 circa cosa vedo qua vediamo se ci riesco e qui vedo quello che si trova in stradivari budello andiamo più su non so cosa si riesco a vedere c'è una demifilè qua come quinta è una bianca sesta e settima però si vede chiaramente chi ha demi vediamo se un altro esempio 1730 circa proviamo ed è questo se si capisce meglio odio beh sì si vedono le punti natura no ok andiamo avanti dopo aver assoluto in una tabella tutto è quindi prendetele tutto qua su questo ritratto del padre di forche le sean baptiste non si capisce molto quindi va beh dovrebbe avere quadro dal vero della port viola qui altra cosa interessante non c'è un adattazione al quadro ma si vede la quinta e la sesta no la sesta la settima che sono d'argento e qui la quinta budello e io ho fatto una prova di mettere una quinta budello nudo l'ho provato qui con un amico caspita vabbè abbiamo messo una quinta budello nudo intero daniello e caspita funzionare come con bau scusate ho chiuso tutto e funzionava bene quindi è possibile anche aveva una quinta in budello nudo andiamo avanti sempre velocemente questo siamo intorno al 1320 questa è una viola a sei corde e qua si vede la quinta e la sesta d'argento però non è possibile capire sede mio no perché il quadro un po non è un'alta qualità diciamo però il pittore voleva far vedere queste filate andiamo boia questo 1693 lo trovo molto interessante questo lo conosciamo tutti vero qui c'è scritto giambattista odry 1737 ma realtà poi a 1693 mi sono fatto mandare delle foto ad alto dettaglio da l'uva ed ecco che mi vedo mi vedo la sesta e la settima rivestite d'argento e la quinta budello naturale e qua se andiamo più su con la tastiera meglio ancora qui si vede ancora meglio vedete quinta gialla e sesta e settima e ok poi vabbè ovviamente for che l'avete visto ma ma rimare 1690 e poi ma rimane 1700 qualcosa eccolo qua la sesta e la settima d'argento l'altra qui si vede malamente ma la vedo gialla budello sesta la settima ma se guardiamo mare di nuovo se lo becco da qualche parte o signor portate pazzi ecco qua vediamo di ingrandire questa cosa qua si vede bene quinta sesta e settima filate d'argento e la quarta in budello e siamo nel 1705 credo qui nella stessa persona cos'altro andiamo alla tavola riassuntiva questo è quello che secondo me interessa a tutti l'ho fatta stamattina abbiate pazienza sto ferma immagine se in colomb 1675 1680 russo 1687 palese in colomba che ha messo la settima allora dove c'è la linea così e budello e quale incertezza dove c'è la croce una filata la settima filata la sesta non sappiamo se era budello o filata perché al tempo e secolo ma le viole erano lunghe non pensate al vostro basso di viola da 71 74 e dovete pensare a tal bo 81 cm quella roba lì quindi una sesta in budello nudo avrebbe funzionato però ho messo i punti domanda era budello nudo e la filata e poi io dico viole lunghe così ma dove si in quale bibbia sta scritto io non lo so quindi vi lascio il dubbio al secondo posto mare mare 1690 li vedo la quarta budello quinta budello filata filata un quadro poi al terzo posto boyer 1693 budello budello filata e filata un quadro quindi come mare mare 1663 poi abbiamo il quarto muschè 1695 budello budello filata qui riprendete al botte no no perché non c'è la settima corda quinto james talbot questo è un manoscritto non un quadro 1695 1700 budello budello la stessa filata la settima non c'è manoscritto lunghezza vibrante 81 cm pc stand intorno ai 3 90 o signor elias van nismelgen vabbè olandese 1710 qua ho pasticciato budello filata filata quinta e sesta e non c'è la settima viola sei corde datazione incerta francois des portes 1730 quarta niente quinta due x vuol dire demi file proprio sicura demi file budè filata filata è un quadro questa è la situazione del l'antonio stadivari 1730 1735 anche stadivari sono campioni ricorda il museo del violino cremona budello e omessa ma immagino budello demi file quinta filata filata poi jambatis forcherè questo so che lo amate il quadro è molto bello il padre forse lo amavamo meno ma anche lui non so se sapete che si è fatto nel 1710 un po di prigioni vabbè 1740 circa il quadro demi file quarta demi file quinta filata piena filata piena quello che si vede questo è un quadro jambatis forcherèi lettera principe 1663 o 60 65 non ricordo demi file quarta filatura piena quinta piena quinta piena setti la settima quindi abbiamo una discrepanza fa il quadro e è quello che scrive qua però io ho fatto un errore scusate ho fatto una x invece dice due x e due x perché la demi file e la quarta e la quinta pasticciato scusate poi carl frederick abel 1780 circa è un quadro abbiamo si vede bene dopo ve lo mostro la quarta in budello nudo quinta sesta settima filata e concludiamo con abel e se lo trovo abel ok grazie cristiano ecco qua lo dio non è che adesso si vede anche anche ma o di meglio quale in un'altra foto qua si vede una bianca 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 e qua ok forse qua si vede meglio ma sì un po meglio dipende come ecco qua vedete no che informazione accessori abbiamo beh come è stato ricordato da vittorio nel caso di messa e ricordo che i ponti qua in caso di abel sta al centro della c ma la maggior parte i casi da qui thomas mason 1676 dice che la posizione giusta del ponte e a due terzi circa qua così però ma se dice che l'asta della cosa va situata sotto il piedino esattamente sotto esattamente sotto però li guardatevi butto addosso la discussione perché materiale da discutere siamo quasi alla fine vediamo a un altro particolare scusate torni indietro vi do un elemento di riflessione sto tornando a mersenne devo tornare indietro perché mi sono dimenticato una cosa le corde erano fatte come una gomena sui bassi o in alta tensione torsione ecco questo è un dato molto indicativo le corre fatte in semplice attrazione sono destro gire la fibra cade di là e tutti gli esempi che ho trovato nei musei totalmente cento per cento anche reperti pagadiniani eccetera il verso sempre destro giro verso sinistro giro e quando ne prendo due le giro alla rovescia questa per esempio una cosa fatta gomena vedete che le fibre vanno all'incontrario questa è una firma di una corda fatta a fune infatti se guardiamo una forza una fune vedete che va alla rovescia ora il 90 per cento delle funi vanno realizzate come ciascuno dei due nomboli le fibre vanno per di là messe assieme si girano incontrario e vanno alla rovescia questa è una delle caratteristiche fondamentali e quale si può vedere allora questa è la fune diciamo uno di nemboli non so come si chiamano vabbè tre fuori vedete che va con l'andamento destro giro quando le mette assieme le devi girare la ressa se non si apre ed ecco che prende l'andamento sinistro giro ok quindi se guardiamo i quadri possiamo avere una traccia importante andiamo a vedere pretorius per torino lo cito e cosa mi vedo questi cordoni così come siano il verso destro giro quindi si può concludere che non erano cat line fatte a gomena avevano cori in altissima torsione e la visibilità della fibra è molto caratteristica del buddha all'intero vi faccio un esempio questo buddha all'intero daniello come vedete sia l'alta torsione che questo vi sfido a dirmi che questa è fatta a gomena anche se le devo sono molto simili e la fibra si vede molto bene torniamo di nuovo lì qua invece abbiamo la situazione opposta vediamo se riesco a farvi vedere ecco qua si manifesta la fibra alla rovescia bisogna naturalmente vedere se la lastra di rame ha girato no insomma bisogna essere molto prudente però intanto fotografo la fibra alla rovescia poi in eva visto bescaini se trovo questo unico esempio fra decine e decine di quadri che ho esaminato vedete questo un violone chiamiamo un violone per capirci il tratto di corda di budello vedete che la fibra si dispone ma non se con una struttura gomena di base se con un'altra torsione cioè se fosse una fune dove andare alla rovescia andiamo a examinare in alto l'ultimo esempio il basso di viola di di mersenne quello grande ed ecco vedete che la fibra è disposta secondo la direzione dell'altra torsione questa cosa non mi dà delle certezze mi dà un campo d'indagine secondo nome è stato mai considerato la direzione della fibra destra sinistra secondo me è uno degli elementi molto interessanti andiamo a a concludere parlando del padre su adesso io non potrò rispondere ai messaggini e perché qua sono scappati tutti e sono rimasto qua io ed è il quarto dato va beh va da memoria seguitemi della lande il viaggiatore francese se ne va in giro per l'italia capita napoli e va alla viene ospitata la bottega del più grande cordaio più grosso proprio angelo nel 1600 760 65 e descrive il ciclo produttivo in sintesi e dai famosi dati per realizzare il cantino di violino tribù dell'intero di agnello la seconda cinque se ricordo bene la terza 7 8 7 va beh e da lì viene fuori perfettamente la montatura dei conti riccati il quale nel 1745 piglia le corde del suo volino le smonta non fa la prova sulla quarta perché si suole ricoprirla di un filo d'argento guardate che lui è l'amico del tartine eccetera cosa fa lui le pesa con la bilancina viniziana per ora forse orafo e ci dà tutti questi dati e patizio barbieri con il calcolo di ricavere diametro 0 70 0 88 1,16 o 12 ok sono le stesse misure delle corde di paganini perché ti pare il figlio le corre paganini che ho misurato nel 2004 a genova c'è la busta che era chiusa con c'era latta queste sono gli esempi le corde di mio padre in attestato di verità io a chi le paganini 0 70 71 la seconda un 0 92 91 e la terza un 116 perfetto corre fatte poi metà napoli e quelli sono i calcoli e torniamo a noi della landa ci dice che la prima del mandolino napoletano quello delle serenate no a quattro ordini il cantino era ancora di budello agli altri di metallo non so qui a spiegare perché prende due budelli che diametro da con due budelli e lo vedrà anche nell'esperienza nostra di ogni giorno con un budello solo abbiamo un diametro fra il 0 35 e 0 42 il cantino degli uto come dice attanasio kircher nel 1650 il cantino degli ut e fatto con un budello unico ok il discorso i diametri dedicati si è lungo sia adesso casomai leggevo i dati del patrizio barbiere che ricorda che un fisico matematico e vengono riportati e non so se si è venuta adesso via consiglia la curva gaussiana dei diameti ripeto lo stesso concetto dobbiamo uscire dall'ambito moderno quando dico diametri interno di me un legge di diametri sia perché li levigavano a mano c'è non dobbiamo pensare un numero fisso come oggi 60 62 64 66 usciamo da quest'ambito è è un diciamo un valore medio statistico torniamo a noi dice che il primo del mandolino appena e due budelli che range otteniamo con due budelli di diametro minimo massimo variabile tra circa 52 0 52 0 58 ok questo è un benzi largo ma così è la verità fuchetti nel 1770 da credo da roma o napoli se ne va a parigi e fa un metodo il metodo per mandolina a 6 e 4 ordini e dice che il cantino del mandolino è uguale al dia al cantino del pardesù di viola ok quindi per traslazione è fatto di due budelli quindi il pardesù di viola aveva un diametro di 52 58 ma a corista del riferimento ancora intorno ai 390 390 400 hertz anche lì non spacchiamo il cappello no cosa significa questo che sia questi 3 90 le riporta i nostri 4 e 15 questo corista barocco per proporzione avendo gli stessi chili in range diventa 0 48 0 53 possiamo fare un esempio sulle corde di parte su che utilizziamo oggi quindi mi sia permesso il seguente paragone che propongo vi ho fatto l'esempio dell'altra la carta corde molto corte che si allungano sempre di più no che però se le premette avranno la caratteristica di presentare una durezza uguale fa tutta la montatura il filtratile uguale significa che hanno gli stessi chili no significano che i chili aumentano verticinosamente da circa 3 fino andare anche a 25 30 chili con gli ultimi bassi ma premendo le senti due uguali la stessa cosa accadeva nel nella famiglia degli strumenti per quel dato musicista per quel dato corista lui per quel dato strumento con quella lunghezza ivante molto probabilmente vanno sicuramente quella sensazione e tattile di nuovezza la voleva riprodotta in tutte le famiglie degli strumenti è un'ipotesi comunata come nell'altra tu vuoi dalla corda sottile alla cosa più grossa dello stesso filtratile quindi se noi facciamo una proporzione di questo tipo ma guardate che è un azzardo ve lo dico ma è l'unica strada che ci rimane 0 42 del pardessù di viola a 4 15 di oggi equivale a un 0 73 del basso di viola come un 0 50 del basso del pardessù di allora riportata quindi 15 sta a x se questa proporzione è vera il cantino di un basso di viola a 4 e 15 va su di diametro fa intorno allo 0 82 85 il range completo e 79 88 se valida questa proporzione naturalmente qui io mi guardo bene da devi le tensioni dei bassi di viola non più alte per due motivi precisi il primo che non posso dire che se for quelle amava quattro cucchiaini di zucchero nel caffè quindi tutta la francia che sono la viola gamba amava quattro cucchiaini non si può prendere un greggio vede una pecora nera e quindi poiché ho l'evidenza di una pecora nera non vedo le altre deduco che sono tutte nere questo è un azzardo però diciamo piuttosto di niente introduco questo elemento è anche vero che abbiamo tal bot che dice che la prima guarda la seconda e su quello dobbiamo fare i conti perché se io consiglio del corista 3 90 range ho detto della seconda di violino che un range molto esteso da circa 82 a 100 e le riporta un corista 4 15 andiamo dei diametri che vanno dal 79 all 85 ma stiamo parlando di tal bot e stiamo parlando sempre del fatto che a lui va bene 4 cucchiaini di zucchero quindi non stare tanto a diciamo quello che a me interessa riportarvi i dati e dopo ci ragionate voi io diciamo come tecnico penso di avervi detto un po tutto vediamo se c'è qualche altra cosa che mi so dimenticato sulla questione minutaggi allora ma rimane il discorso dell'ottone non facciamo magie su questa cosa fa l'efficienza acustica di una corda rivestita è data molto di più dalla qualità dell'anima e dall'indice di metallicità io posso avere una corda di eccellente qualità usando filo di ferro come una corda di pessima qualità usando filo d'argento zecchino a mille di capito praticamente argento puro se utilizzo un'anima rigida e un rapporto di metallicità molto basso quindi l'ottone che coale il vantaggio dell'ottone il vantaggio dell'ottone che costa molto meno dall'argento guardate cosa l'argento non è come costa noi oggi il corto dell'argento era molto elevato l'ottone era uno stratagema per utilizzare un metallo molto diffuso perché si usava nelle spinette l'ottone era molto comune si trafila va bene e ha il vantaggio rispettare a me puro che non si ossida non rimane lucente mentre rame andava in argentato perché come lo utilizzi così come sta dopo due giorni tre non so di verso dove comincia a diventare bruno ossidato alla fine si consumano quindi questa storia che marea provato il l'ottone con successo nel normale vuol dire che invece di usare un filo da 0 20 d'argento ne metto uno da 0 25 di ottone perché la massa equivale perché l'ottone ha una densità 8 rotone giallo l'argento a densità 9,5 no no 10 va bene sono ricordo piatta quello equivale all'altro ottengo cos'è che casomai mi cambia mi cambia il fatto che se la ricopertura è un filo è un po più grossetto magari colar come un po più rumoroso ed è un po il motivo per cui nella modernità le corde vengono levigate filo piatto quel tipo di cose lì no io adesso non so se riesco a leggere le vostre domande ok mi sa che non riesco a fare altro vedo se c'è qualche altra cosa volevo concludere così queste sono le fonti il mio compito è mettere per la prima volta in luce perché non mi risulta che ci sia un lavoro fino adesso sia in inglese che in italiano che cosa che prende in maniera sistematica tutte le fonti le mette assieme e ha tra un discorso come vedete sto molto distante dalla viola alla bastarda ovvio la bastarda dalle di ravaio dal divisione perché sono argomenti piuttosto complessi e so che tra di voi siete lunghi coltelli io me ne sto distante così sto distante sulla questione di approfondire pc standard perché io faccio il tecnico sono un cordaio e quindi sto nel campo mio qualche volta vedete che invado un po il campo degli utaio ma sulla questione delle proporzioni lunghezza i varianti quello è il mio mestiere perché lì si parla di calcoli diciamo ingegneristici applicati alle proporzioni e posso prendere considerazione i dati che abbiamo l'iconografia ma su altre questioni lì magari si potrebbe fare qualche altro discorso andando avanti ma mi sembra di avervi detto sostanzialmente tutto volevo vedere se ho qualcosa altro da giurarsi ecco c'è una cosa l'ultima il discorso di accordare al più acuto consentito viene detto che è valido solamente per tutto no guardate adesso vi faccio vedere per esempio play ford ma non c'è solo play ford a cosa dice è chiaro parla del basso di viola mai se io tra i ballo smalester stringi 3s ai case conveniente l'izzi biavid out breaking poi abbiamo anche quando accenna al trebo e al te no stessa cosa c'è scritto che segue le stesse regole del basso per accordarlo ecco mersenne non importa un altro dato riporta di bassi dove seppur hanno la lunghezza vibrante giusta il cantini ne rompono 10 20 e dice che queste perché il corpo è particolarmente no non è perché il corpo è grande lì bisogna avere tante cose c'è il fatto che un cantino si spacchina spaccate 20 se la lunghezza vibrante la stessa di un altro strumento dove non si sono spaccate il pc lo stesso e la notte la stessa cioè c'è in varianza di lunghezza vibrante e di nota finale e in varianza ricorda tutte queste rotture non è dovuta un fenomeno di magia è dovuta al fatto che ci sono delle spiegazioni per esempio tra potasso tagliente eccetera ricordo visto che ci siamo che lo studio dei trattati sta evidenziando diversi errori fatti dagli antichi non lo dico solo io lo dicono anche gli altri ricercatori per esempio i dati dei metalli dati da mersenne sono sbagliati il carico di rottura del budello secondo mersenne dovrebbe essere di 19 kg a millimetro quadrato mentre nella realtà usciliamo oggi parlo di oggi intorno ai 35 e 38 kg a millimetro quadrato se fosse davvero di 19 kg a millimetro quadrato non esisterebbe più nessun liuto nessun violino nessun strumento a pizzica d'arco potrebbe esistere poi abbiamo dei ragionamenti errati purtroppo fatti nelle prove al monocordo perché non hanno considerato la strizione della corda sotto i pesi queste proporzioni funzionano bene se si usa un filo di metallo dove non si allunga ma oimè la corda di budello ha una torsione quando tu l'allunghi si allunga perde diametro questa cosa qua ha introdotto delle anomalie che nel caso di mersenne che ha tinta piene mani da vincenzo galilei lui ha introdotto un coefficiente correttivo di un sedicesimo per far ritornare le cose se non otteneremo i conti ma non ha mai spiegato perché lo ha fatto nel 1692 danielo battoli si prende il gioco di mersenne dice ha 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 scrive e vuole che mersenne noi che mersenne us merce ne crediamo a questa cosa di questo coefficiente praticamente si accorge che c'è un coefficiente hanno spiegato vincenzo galilei nel fonimo o forse dialogo adesso non mi viene in mente introduce il concetto che le corde di budello sono coniche non è vero ho fatto una dimostrazione pratica il budello fresco l'intestino è conico su una lunghezza di 7 metri un budello intero daniello parte da un diametro faccio un esempio 19 mm avere in fondo che 16 17 ma su 7 metri ma quando la corda la giri su se stesse l'asciughi il diametro medio rimane invariato perché in realtà quel ingrossamento non è un diametro più grosso è una dilatazione per cui si allarga ma la parete va sottile la massa di carne costante tutte queste cose ho fatto delle verifiche sperimentali perché purtroppo ritorno sempre orlando questo prometti che mi dice verifica le fonti di prima mano e verifica tutti anche se sono dei nomoni vincenzo galileo non è galileo galilei diciamo che un grande uomo ha introdotto il metodo sperimentale e di verificare le cose infatti si è accorto che la proporzionità diretta tra diametro e tensione non c'è va il quadro è un grande passino avanti però tutte queste cose purtroppo vanno riviste con l'occhio critico concludo parlando di serafino di colco facendo rivedere quello che è un capo saldo delle guai tensione di oggi serafino di colco riporta questa immagine se la trovo datemi due secondi ecco qua riporta queste immagini qua e serve per dimostrare che il violino avrebbe una montatura in uguale tensione innanzitutto non si capisce perché non c'è il manico lui tende delle corde ovviamente di diverso diametro perché deve trovarle quinte a dei pesi uguali che sono dei sacchetti con della sabbia vedete che sono allungate della stessa maniera io ho fatto la verifica sperimentale applicando il metodo di vincente di galileo galilei sono nato sulla torre di pisa ho buttato giù per vedere se avevo la verifica sperimentale e mi trovo questa situazione eccola qua ho usato un ukulele perché non volevo distruggere il violino di mio nonno e però ho messo il manico ma non importa ho messo una corda 0 60 una da 1 e 20 agente sotto gli stessi pesi si verifica che la corda più sottile si allunga di più perché gli stessi pesi di 5 kg sono spalmati da una parte su una superficie di zero di un diametro di 0 60 dall'altra su una superficie date del diametro 1,20 quindi si conclude che la corda più sottile si allunga di più e ce ne accorgiamo perché fa più giri nel pirolo ma se la corda più sottile si allunga di più perde più diametro rispetto all'altra non ho più la proporzionalità ed ecco che quando le suona vuoto non avrò l'intervallo di ottava ma un intervallo di ottava aumentato ed è questo la prova pratica e sera fino di colco venezia 1690 abbiamo sottoposto due corde una da 0 60 e una da 1,20 mm che per calcolo dovrebbero dare l'intervallo di ottava a due pesi agenti uguali 5 kg e 5 kg ma se suoniamo non otteniamo affatto l'intervallo di ottava per ottenere l'intervallo di ottava bisogna premere la più grossa qui perché questo succede perché la prima corda che è sottile si allunga molto di più rispetto a quella grossa quindi essendo che il diametro è più sottile per la formula delle corde il diametro più sottile produce una nota più alta al fine di poter avere l'intervallo di ottava la prima corda deve essere molto più grossa cioè da calcolo di partenza bisogna calcolare una tensione di tipo scalare questa è la vera interpretazione ecco penso che che sia sufficiente ecco volevo dire una cosa voi fate pure le vostre domande e a quelle che giustamente hanno degli elementi critici benvengano io è chiaro che qui devo come dire semplificare perché una cosa così va fatta in un'ora e mezza in realtà c'è una settimana bisogna avere i documenti dovremmo leggere assieme però questo video lo salvo lo potete vedere dopo farò un articolo in inglese stavolta in modo che sia a disposizione anche di altri e se avete domande fatene io vi indirizzerò la dove ci sono i documenti ma ricordate una cosa molto importante il mio compito non è fornire certezze e soluzioni e dirvi si usavano le corde grosse si usavano le corde sottili si con riserva certamente questo noi con questo no questo non è il mio mestiere il mio mestiere riportare i dati in maniera organica tutti metterli sul tavolo metterli anche i dubbi le incertezze in modo che da lì c'è un elemento di partenza e quindi buona serata non abbattetevi su di corda vi saluto grazie e attendo vostra osservazione ciao